Si tratta di uno strumento gratuito che dietro registrazione consente di effettuare pagine web dall'aspetto decisamente professionale oppure dei semplici flyer, delle grafiche costituite da una sola immagine o anche dei video. Noi useremo in questo caso Spark come documentazione di progetto, quindi utilizzeremo il servizio per la creazione di pagine web. Adobe Spark è gratuito ma richiede registrazione. Una volta effettuati il login questa è la schermata nella quale ci si ritrova. Occorre premere il più giallo e questa è la schermata che appare e in effetti da questa schermata si vede che Spark può realizzare dei post semplici, delle immagini, elaborare dei video e allo stesso tempo delle pagine. Lo strumento che ora utilizzeremo è esattamente quello della pagina, quindi clicchiamo su più. Dopo un breve caricamento questa è la prima parte di Spark che ci apparirà ed è la copertina. Come vedete è scritto add a title, cioè aggiungi un titolo. Immaginiamo di realizzare un progetto relativo a un'intervista impossibile, una tipologia di storytelling. E cliccando su add a title possiamo scrivere intervista impossibile e qui sotto un eventuale sottotitolo. Come vedete la copertina è un grigio. A questo punto possiamo personalizzarla con un'immagine. Cliccando sul più in basso apparirà una specie di balloon con scritto foto. Clicchiamo e qui si apre sulla destra una maschera per ricercare le immagini. Si possono cercare le immagini da un motore di ricerca interno oppure dal proprio account Adobe, se lo abbiamo, che ha il nome di Creative Cloud. Oppure dal nostro account, sempre Lightroom, Adobe Lightroom, oppure da quello Dropbox o Google Photo. In questi due ultimi casi occorrerà dare a Spark naturalmente le credenziali di accesso a questi servizi di cloud storage. Oppure se l'immagine non compare tra quelle che noi ricercheremo, possiamo eseguire un tradizionale upload di una foto che magari abbiamo nel nostro computer. Andiamo ora su Find Photo e qui impostiamo una ricerca che, vedrete, non darà risultati. Io scrivo Intervista, impossibile. Ecco, come vedete non ci sono risultati. Questo perché Adobe Spark restituisce soltanto immagini che sono coperte da un copyleft come Creative Commons. E quindi evidentemente nel motore di ricerca interno non c'è nulla che risponda a queste caratteristiche. Se io per esempio scrivo Interview, allora compariranno dei risultati. Io per esempio scelgo questa che ha un microfono e infatti ponendo il mouse al di sopra dell'immagine vedo che proviene da Pixabay, che è un motore di ricerca di immagini libere. La clicco e l'immagine dopo un attimo viene impostata come copertina. A questo punto con il mouse scendo più in basso e vedo un più. Ecco, la casella degli strumenti di Adobe Spark è tutta qui. Cliccando in questo più infatti vedremo che Spark può aggiungere foto, testi, bottoni, video, griglie di foto e griglie di foto elaborate in un modo leggermente diverso dalle precedenti. Vediamone uno a uno. Immaginiamo di voler inserire un testo, quindi io clicco su Text, comparirà un semplicissimo editor di testo e io qui scrivo Introduzione. Non posso cambiare tutte le caratteristiche di questo testo, ma qualcosa è nella mia facoltà di modifica. Per esempio posso cliccare su H1, Edline 1 e a questo punto il titolo viene mostrato grande, oppure H2, Medio, oppure se clicco H2 viene eliminata la formattazione titolo e troviamo il testo normale. Oppure possiamo trasformarlo in una citazione e quindi il testo apparirà in corsivo. Oppure elenco puntato e tutti gli altri strumenti. Da notare la giustificazione, sinistra, centro e destra. Classici strumenti, grassetto, corsivo ed eventuale inserimento di link. Uno dei casi più frequenti è quello di inserire un titolo, quindi H1. E poi di nuovo un testo con scritto Testo della mia introduzione, che ha una formattazione invece normale. Infatti si vede che nel primo caso il testo è più grande, nel secondo è più piccolo. A questo punto io voglio di nuovo inserire un'immagine, quindi clicco sul più e clicco di nuovo su Foto. Ricomparirà quell'elenco di destra, ora sceglierò un'immagine diversa dalla precedente e sfogliando nella maschera di ricerca vado sino a un'immagine di mio interesse legata al mondo dell'intervista. Per esempio questa. Eccola qui, una specie di taccuino. Stavolta notiamo che l'immagine può avere degli effetti grafici. Per esempio, l'effetto che di default viene attribuita all'immagine è inline, vale a dire giustificata con il testo. Infatti se vediamo il testo è allineato ad un certo punto che è esattamente lo stesso dell'immagine. Ma se io voglio modificarlo posso fare Fill Scream, riempi schermo ed ecco che l'immagine diventa tutto schermo. E peraltro in questo caso compare una piccola rettangolo nel quale io posso scrivere una didascalia. Oppure posso tradurre l'immagine in finestra, eccola qui, e avrà un effetto di parallasse e scorrimento. Oppure posso di nuovo impostare una completa larghezza, eccola qui, immagine piena. Di nuovo cliccando sull'immagine posso applicare l'effetto di movimento, che sarà più evidente dopo quando vedremo una preview realizzata del progetto. Oppure le ultime due opzioni, posso rimpiazzare questa foto con un'altra, oppure semplicemente eliminarla. Per ora noi scegliamo l'opzione inline, quella cioè giustificata con il testo. Scendiamo più in basso e utilizziamo ora lo strumento bottone, eccolo qui, button. Bottone serve per creare un link che ci porti in un sito che non vogliamo incorporare nel nostro progetto, ma che ci interessa in qualche modo inserire nel nostro lavoro. In questo caso in button test possiamo scrivere clicca qui per approfondire e nel campo sottostante inseriamo il link del sito a cui vogliamo rimandare l'utente che cliccherà nel nostro bottone. Al termine clicchiamo su save. Per esempio qui scriviamo Possiamo scegliere l'allineamento del bottone, al centro, a destra, a sinistra e alla fine salvataggio. Ecco, lo abbiamo scelto allineato a sinistra. Ora che abbiamo già composto qualcosa, vale a dire una copertina con un titolo, un sottotitolo, un testo di titolo, un testo centrale, un'immagine, possiamo cominciare a vedere che forma sta prendendo il nostro lavoro. E quindi clicchiamo su preview. Cliccando su preview, dopo un breve caricamento, vedremo quella che è l'immagine che vedrebbe un visitatore. Finora infatti siamo stati all'interno dell'immagine della modalità autore. Ecco, questo è l'effetto. Come vedete l'immagine ha un effetto di comparsa, che è del tutto automatico in Adobe Spark. Vediamo il titolo grande, il titolo piccolo e il bottone. Una volta che abbiamo terminato la nostra preview, clicchiamo in alto a destra su questa X e ritorniamo nella modalità autore. Ora poniamo di voler aggiungere un video presente su YouTube, quindi clicchiamo di nuovo sul più e poi video. Ecco, in questo caso possiamo tecnicamente fare l'embedding, vale a dire incorporare video presenti o su Vimeo o su YouTube. Non sono possibili altri motori di ricerca video. Inseriamo qui il link, quindi dobbiamo andare in una pagina di YouTube dove compare un video di nostro interesse. In questo caso io ho scelto un'intervista impossibile che Umberto Eco inoltre ha la Beatrice Dantesca. Lo inserisco, eccolo qui, premo spazio e poi save. Ecco che il video viene direttamente incorporato nel nostro lavoro. Rispetto alle immagini nel video non è possibile applicare degli effetti, quindi il video sarà sempre formatato in questo modo. Poniamo ora di voler aggiungere una griglia di foto, quindi clicchiamo di nuovo sul più, griglia di foto. Compariranno sempre le nostre foto di prima, ora ne scegliamo alcune a caso, ad esempio una, due e tre. Ed ecco qual è l'effetto della foto griglia. Possiamo queste immagini anche redistribuirle con i tasti che appaiono al di sotto di esse. Ecco, per esempio questa la mettiamo in prima posizione e magari vogliamo anche mostrarla più grande. Tramite questi tasti è possibile intervenire nelle foto. A quel punto occorre in alto a destra premere save e la griglia di foto viene caricata. Vediamone una preview. Ecco qua. Questa è la nostra copertina. La foto iniziale. Il bottone, il video. Ecco. E poi la griglia di foto che abbiamo appena inserito. Usciamo dalla preview e vediamo l'ultimo effetto che si chiama foto griglia, che è Glideshow. Clicchiamo appunto qui. Glideshow serve per inserire foto dentro a foto, video dentro a foto oppure testi dentro a foto. Per esempio, se scegliamo di inserire questa foto, eccola qui, possiamo poi inserire un'altra, eccole, e poi infine un'altra ancora, questa degli Oscar per esempio. Ecco qui. Clicchiamo su salva. In apparenza l'effetto Glideshow non è differente dall'effetto, ecco qui, save. Non è diverso dall'effetto precedente di griglia. Però c'è una differenza. Una volta salvato, si è aperta questa piccola, piccolo rettangolo di color grigio chiaro con un più al centro. Questo più, cliccato, ci dà la possibilità di inserire una foto dentro una foto. E ora lo facciamo subito. Eccolo per esempio. Oppure ci dà modo di inserire un testo, anche lungo, dentro una foto. Ecco qua. Oppure addirittura un bottone, come abbiamo fatto prima, e la modalità è la stessa. O anche persino un video dentro una foto. Ecco qui. Video. Lo inseriamo, per esempio, il video di prima. Eccolo qui. E l'effetto è questo. Ora andiamo su preview. Ora sarà molto chiara la differenza tra la griglia di immagini e il Glide Show. Ecco, questa è la semplice griglia. Queste immagini all'interno non hanno nient'altro. Ecco invece cos'è il Glide Show. È un'immagine, questa donna che intervista questo uomo fatto di Lego, con all'interno un'altra immagine. Oppure un'immagine con all'interno un testo, che può essere anche molto lungo. Oppure un'immagine con all'interno un video. Naturalmente possiamo inserire, ecco ora usciamo dalla modalità preview, possiamo inserire questi strumenti quando vogliamo. Per esempio posso inserire di nuovo un testo alla fine. Ecco qui, text. Questi strumenti possono essere inseriti in qualunque momento. Facciamo notare infine che il fatto che Spark vada a prendere immagini creative commons, lo si capisce alla fine dove ci sono i credits delle immagini. Ecco qua. Qui c'è scritto chi ha scattato queste foto e dove si trovano queste foto. Ora possiamo apportare delle lievi modifiche allo stile del testo. Chiudiamo la preview. E infatti se in alto vediamo il bottone TENI e lo clicchiamo, ci si presenteranno sulla destra una serie di layout possibili per gli stili. Quello che viene impostato di default è il CRISP. È uno stile piuttosto formale. Però possiamo nescergli un altro come questo. E vedremo subito che lo stile dei titoli cambierà abbastanza evidentemente. Eccolo qui. Lo stile interviene unicamente sui titoli e sui sottotitoli. Non interviene mai sul testo che ha la stessa identica formattazione e sulle immagini. Oppure possiamo inserire questo. E in tempo reale ne vediamo la differenza. Una volta scelto il titolo, chiudiamo. Si tratta ora di condividere e quindi pubblicare il nostro lavoro. Clicchiamo dunque in alto su SHARE. Ecco qui, Spark ci chiede Il lavoro che hai fatto finora, quale categoria appartiene? Noi scriviamo EDUCATION. Poi Spark ci chiede Vuoi che il lavoro compaia a tuo nome? Dove per nome si intende il nome con cui ci siamo registrati. Possiamo scegliere sì oppure no. FOTOCREDITS Questi sono tutti quanti i credits, vale a dire, chi ha sviluppato la foto. Possiamo anche in ogni caso eliminarli. Non c'è possibile eliminare il logo Adobe Spark In questa versione E poi Alla fine Spark ci chiede Se vogliamo essere Se il nostro sito può essere inserito Tra quelli che Spark mostra In home page Nel caso di un progetto particolarmente ben svolto Possiamo scegliere di sì Oppure di no. Fatto questo Clicchiamo su Create Link Ed ecco qua Il progetto è stato creato Questo è il link A cui sarà raggiungibile Infatti ora apriamo una finestra di Google E vedremo Che il nostro progetto è subito online Qualche istante di caricamento Eccolo qui Ecco il nostro progetto Ecco quello che vedrebbe un visitatore Da notare che il sito è responsive È elastico Valla a dire Visitato con smartphone Tablet o desktop Ha la stessa identica apparenza E questo non è un dettaglio di poco conto Possiamo poi condividerlo subito nei nostri social O addirittura farne l'embedding Dentro un altro sito Una volta terminato Se dovessimo ritornare sul nostro lavoro Clicchiamo in queste tre lineette Andiamo su Miei progetti Eccolo qui Il nostro progetto Intervista impossibile Che in qualunque momento Tramite edit Possiamo tornare a modificare Oppure tramite questi tre puntini Possiamo rinominare Duplicare Se ci serve che questa struttura Venga raddoppiata per un altro sito Togliere dalla pubblicazione Quindi il sito non viene eliminato Semplicemente non è più pubblicato Oppure eliminarlo Se vogliamo semplicemente modificarlo Si clicca su edit Ed ecco che ci ritroveremo di fronte Alla schermata di un attimo fa Cioè alla modalità autore Nella quale compaiono i più Che sono il segno Del fatto che siamo nella modalità In cui è possibile apportare delle modifiche Un'ultima annotazione Le immagini hanno quasi sempre una I Ed è questa Cliccando la quale Ci sono per l'appunto Le informazioni circa le immagini Chi l'ha scattata Dove si trova l'immagine Eventuali diritti L'eventuale originale dell'immagine E altre indicazioni Su le caratteristiche di questa immagine Eccole qui Ecco un'altra I Ecco A cosa serve Adobe Spark? Serve soprattutto per documentare dei progetti Non alla funzione di un blog Potremmo dire che Adobe Spark È la documentazione a progetto Non è una documentazione cronologica È molto utile Perché consente con pochi clic Di creare pagine dall'aspetto Decisamente professionale E pubblicarle in uno spazio web Che è esattamente quello di Spark Quindi non dovremmo provvedere noi Al reperimento di uno spazio web Dove depositare il lavoro svolto Può essere utile anche per quanto riguarda La documentazione di progetto degli studenti E infatti con una semplice registrazione Chiunque può realizzare una pagina come questa Ricordo poi che Spark provvede anche alla creazione di semplici post Usati soprattutto per dei flyer Degli inviti, singoli inviti o dei video Per esempio se noi clicchiamo su Inspiration Gallery Vediamo tutti i prodotti realizzati da Adobe Eccoli qui Che sono per noi fonte di possibile ispirazione In questo caso Vediamo che in basso a destra di ciascun esempio Spark ci segnala che questo è una pagina Questo è un video Questo è un post La pagina l'abbiamo appena realizzata Il post è questo Una semplice, semplicissima immagine Eccola qui Che Spark ci consente di elaborare Attraverso una serie di modelli già pronti Oppure in questo caso un video E anche in questo caso il vantaggio è che il video risiederà poi nello spazio web Eccolo qui Di Spark stesso Tutti gli effetti video che Spark riesce a inserire Sono preimpostati Quindi significa che l'utente deve solo sceglierli Non deve essere in grado di elaborarli Ecco in questa pagina Selezionando in cima la categoria Per esempio quell'Education Si possono vedere tanti progetti già realizzati Per avere anche delle ispirazioni Per poi realizzare a nostra volta dei progetti personali Eccolo qui Per effetti